we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi in questi pochi minuti tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite si parla ovviamente di due principali argomenti l'annuncio della nuova coppa marvel la seconda delle quattro coppe in programma e l'arrivo anche di fortnite sulla ps5 e sulla xbox series state qui perché vi leggo tante cose interessanti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio un post ufficiale nella pagina twitter di fortnite che pubblica ieri nelle prime ore della serata sometimes the legends are true ogni tanto le leggende diventano vere ghost rider cap fit marvel knockout ltm trios il 4 novembre la vittoria comprenderà la ghost il ghost rider outfit mark your calendars the next two in series are l'undici e il diciotto novembre quindi sappiamo già tutte e quattro la prima l'abbiamo già fatta tutte le altre tre date nella coppa marvel e questa è una bellissima immagine ufficiale di come sarà la coppa di marvel e come sarà la skin di ghost rider ma l'articolo è veramente molto molto interessante e andando direttamente nella pagina delle news di fortnite leggiamo la coppa ghost rider inizia il 4 novembre per johnny blaze il percorso per diventare ghost rider non è stato semplice una maledizione di famiglia apparizioni demoniache e altri sventurati eventi hanno segnato la nascita di questo ardente anti eroe i giocatori di fortnite intraprendono una strada diversa ma non meno impegnativa per ottenere il costume di questa leggenda marvel gareggiare nella super competizione knockout marvel il 4 novembre la coppa ghost rider infiammerà la scena di fortnite brucia gli avversari insieme al tuo terzetto per poter essere tra i primi a sbloccare il costume e il dorso decorativo di ghost rider come entrare in gara assolda due amici e partecipa alla coppa ghost rider e alla matt knockout marvel in terzetti che inizierà mercoledì 4 novembre apri la scheda competi nella lobby di gioco seleziona la coppa ghost rider e trova l'orario di inizio per la tua regione dopo che l'evento sarà iniziato la sua playlist sarà accessibile nel menu playlist nota per i tornei non è disponibile l'opzione di completamento e per partecipare devi avere un account di livello 30 e l'autenticazione a due fattori setup quindi mi raccomando controllate queste cose ragazzi trovate i vostri amici i giocatori che parteciperanno alla coppa ghost rider e alle due competizioni future otterranno comunque il deltaplano nexus quindi deltaplano gratis che arriverà per tutti al termine della quarta coppa marvel la super competizione sfreccia senti bruciare l'eccitazione per nuove sfide la super competizione marvel sfreccia verso tre nuovi eventi a novembre coppa marvel misteriosa eroe malvagio a coppie l'11 novembre coppa marvel misteriosa eroe malvagio a coppie il 18 novembre e la super coppa da un milione di dollari il 21 novembre ragazzi un monte premi di un milione di dollari splittato ovviamente tra i partecipanti il 21 di questo mese quindi una manciata di giorni prima del cambio season davvero incredibile quanto abbiano investito su queste coppe marvel ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è un altro articolo ufficiale un altro post ufficiale nella pagina twitter di fortnite che dice next gen next week leggi i dettagli riguardanti la nuova generazione di console quindi la ps5 e la xbox one series e come fortnite si adeguerà pronto al debutto fortnite arriva la prossima settimana su xbox series s e ps5 la prossima generazione inizia la prossima settimana dopo aver annusato il dolce profumo della tua nuova xbox ops appena aperta o entrambe se sei molto fortunato potrai subito scaricare fortnite per la nuova generazione fortnite su xbox serie xs e ps5 non è un semplice aggiornamento delle versioni passate ma una build nativa per le nuove console se sei già un giocatore di fortnite potrai continuare i tuoi progressi facilmente se invece sei al debutto su fortnite sarà un ottimo momento per gettarti nella mischia che tu sei un giocatore veterano alle prime armi potrai scaricare il gioco sulla nuova console fin dal primo giorno per goderti una vera esperienza next gen due note per quanto riguarda la xbox series s risoluzione a 4k e 60 fps vivi fortnite come mai prima d'ora con una sbalorditiva grafica grafica e fisica dinamica su serie x vivi un mondo più dinamico e interattivo con erba e alberi che rispondono alle esplosioni fumo e liquidi ancora più realistici risoluzione 1080 a 60 fps sulla serie s lanciati in tutte le modalità di gioco con risoluzione 1080 e tutta la fluidità dei 60 fps entra più rapidamente in partita con prestazioni nettamente migliorate le texture saranno caricate più rapidamente e lo schermo condiviso migliorato per quanto riguarda invece fortnite sulla ps5 anche qua risoluzione a 4k a 60 fps vivi fortnite come mai prima d'ora con sbalorditiva grafica 4k grafica e fisica dinamica vivi un mondo più dinamico e interattivo con con erbe e alberi che rispondono alle esplosioni fumo e liquidi ancora più realistici immersioni controller dual sense grazie al feedback aptico sarà come brandire davvero una mitraglietta sfilenziata o un fucile di precisione bolt action oltre al supporto generale per la vibrazione i grilletti adattivi dinamici del nuovo controller dual sense saranno disponibili per le armi a distanza seleziona la tua modalità preferita dalla schermata principale fortnite supporta le attività di ps5 partendo con l'abilità di raggiungere direttamente la lobby di battaglia reale con le modalità singolo coppie o squad già presenti quindi ragazzi tante tante cose ovviamente come ci continua a spiegare l'articolo non perderete i vostri progressi ma la nuova cosa interessante è che c'è il bonus revival per ricordare il passato mentre guardiamo al futuro abbiamo deciso di offrire a tutti i giocatori di fortnite su qualsiasi piattaforma il piccone gratuito ascia revival a partire dal 4 novembre questo classico piccone predefinito del capitolo 1 di fortnite sarà disponibile per tutti nel gioco e su ps store fino al 15 gennaio 2021 quindi ragazzi davvero incredibile il salto nel futuro che questa settimana che prossima settimana farà fortnite è incredibile anche tutti i regali che hanno intenzione di farci partendo dalla skin di ghost rider per arrivare al piccone fino alla possibilità di vincere un bel monte premi con una base di un milione di dollari insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao